Ripartono le vaccinazioni con AstraZeneca e la SST Lariana organizza sedute aggiuntive per recuperare gli appuntamenti cancellati nei giorni scorsi. A partire da domani sono previste 700 iniezioni al giorno in via Napoleona dedicate agli operatori del mondo della scuola. A queste si aggiunge la campagna per le forze dell'ordine, ormai in fase di completamento. Arrivato il via libera ad AstraZeneca, a SST Lariana ha provveduto a organizzare la ripresa dell'attività vaccinale, fanno sapere dall'azienda. Per ottimizzare la gestione del recupero delle giornate perse è stato definito un nuovo calendario con sedute aggiuntive. Le convocazioni vengono comunque gestite da Aria, la società della regione che si sta occupando delle convocazioni per le vaccinazioni. Abbiamo trasmesso ad Aria la nostra disponibilità ad effettuare a partire dalla giornata di domani 700 somministrazioni al giorno di AstraZeneca, con un aumento di oltre 200 somministrazioni al giorno rispetto alla scorsa settimana, confermano dalla SST Lariana. Gli ambulatori dedicati agli operatori del mondo della scuola nell'area del poliambulatorio di via Napoleona saranno attivi tutti i giorni da lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.30. Aria sta provvedendo a caricare i nominativi.